600 visite guidate alla scoperta di Piacenza, alla ricerca di nuove angolazioni da cui osservare, anzi approfondire, la storia della nostra città. Parte un ciclo di itinerari in centro storico promosso dal Comune di Piacenza. Al via da questo fine settimana sino alla stagione invernale, la partecipazione prevede una tariffa simbolica di 3 euro e la gratuità per i giovani sotto i 17 anni d'età. Sono visite innanzitutto tematiche che presentano da tanti punti di vista la nostra città, parliamo della Piacenza Barocca, della Piacenza Liberty, ma non mancheranno ovviamente le visite nei principali musei della nostra città, i musei civici di Palazzo Farnese e approfittando dell'impianto praticamente appena inaugurato di climatizzazione anche alla bellissima galleria d'arte moderna Ricciodi dove tra l'altro dal 3 di luglio ci sarà una nuova inedita mostra. Da venerdì 25 giugno prenderà il via il percorso Piacenza Classica, mentre l'itinerario alla scoperta delle origini romane di Piacenza inizierà con giovedì 1 luglio. Allo stesso modo gli altri percorsi estivi, dal teatro municipale alla galleria Riccioddi, cominceranno rispettivamente sabato 3 e sabato 10 luglio. Noi abbiamo pensato a più che altro percorsi tematici da punto di vista storico che mettano in luce le bellezze e i primati della nostra Piacenza. L'ufficio turistico dello IAT, che a breve si trasferirà in una nuova sede in Piazza Cavalli, sarà il punto di riferimento per le prenotazioni e tutte le richieste di informazioni anche al numero di telefono 0523 49 20 01.